buongiorno amiche buongiorno amici non avevo visto che era partito il timer come state stavo per dirvi buon lunedì e invece è venerdì me lo devo ricordare che è venerdì oggi ho un impegno mannaggia sto per andare a rifarmi un po turchini i capelli però vi volevo lasciare un saluto è stata già una bella mattinata perché ho avuto dei belli scambi di chiacchiere di saluti con amici lontani poi ho realizzato un mini tutorial per una cara amica ho fatto una prova anche per voi ma vabbè quello è una cosa diversa perché non è proprio semplice io non ho proprio la mano mi spazientisco perché non sono comoda non so come rendermi più comoda per realizzare i tutorial ma ve lo voglio fare quello sul pizzolesto intanto qua vedete una comparazione di risultati ecco il pizzolesto con realizzato con filati dalle caratteristiche assai diverse un filato vale l'altro no è no vero che possiamo utilizzare lo stesso punto vabbè in varie situazioni ma ci sono dei filati che rendono al meglio se modellati in un certo modo così come ci sono dei punti che chiedono veramente determinate consistenze o torsioni e anche colorazioni è già perché anche il colore altera può alterare o mettere in risalto certi punti ma è più facile che i colori la distribuzione di più colori lungo un filato e anche le possibili inclusioni di altri materiali o effetti fantasia possono alterare l'estetica di un punto in meglio difficile difficile però come si fa a capirlo si fa si fa il campione e si si fa quel pezzettin con un non con un codin di un topolin ma con un po di filato e intanto facciamo la diciamo coltiviamo sensibilità tattivi e sì visive anche sì e impariamo ad osservare perché si fa poco si osserva poco si nota poco ciò che avviene grazie al movimento del filo è assolutamente sì e questo pizzo lesto che non ha un nome e tra l'altro ieri ho visto una versione strana realizzata solo sul rovescio rovescio dritto rovescio insomma l'ho riconosciuto subito però ecco era diversa la gestione delle facciate è interessante così come avete visto chi ha avuto modo di di vedere il post pubblicato ieri qua su youtube un esperimento di grazia un'amica che ha utilizzato un filato che crea problemi da una torsione sbagliata non è stato predisposto per la guglieria e sì ci sono delle predisposizioni sì sì dipende dalla famosa torsione ecco quando soprattutto si abbinano capi diversi i capi quando vengono uniti dovrebbero avere alcuni un indirizzo da una parte e altri dall'altra vabbè è un argomento che potrebbe spiegarlo al meglio una brava filatrice che riesca a filare più filati e quelle brave che sanno fare i fiammati che fanno sanno fare tante ci sono ecco ecco potrebbero loro spiegare com'è importante cosa è importante nella realizzazione dei filati anche artigianalmente dal punto di vista industriale si sa che ci sono delle torsioni che vanno a creare dei problemi nella nel tricò nella guglieria nella maglia nella maglieria ed è proprio l'indirizzo delle 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 fibre nella torsione ecco e quindi grazie ha acquistato un bel filato affascinante nel colore curioso nella sua mischia di fibre e però ecco nella maglia rasata realizzata con più calibri ecco campionando ha dato il risultato orrendo che è quello di sbiecare il lavoro quello di sghembare quindi invece di avere quadrato e rettangolo e siano dei rombi dei trapezzi e non si risolve c'è poco da fare metti lì la lavora qua stringi lì stringi là anche no e quindi visto che gli è stato rimborsato il filato il filato rimasto a lei stiamo facendo delle campionature e abbiamo notato come questo filato questo difetto si manifesti meno a campioni non lavati ancora ecco si manifesti di meno nella realizzazione del punto del pizzo lesto incolonnato invece che sfalsato diciamo che cambia completamente l'effetto quindi che cosa succede succede che poi ve lo rispiego quando vi faccio il vocale faremo anche quel campione utilizzando la stessa tipologia di filato nella comparazione che è importante o qualche cosa vedete vedete un campioncino il campioncino che ho realizzato nella lezione a distanza del pizzo lesto e ho utilizzato un filato abbastanza elastico che è il tiglio dell'amore fil quel filato grigio perla che vedete lì e mi ha fatto dannare anche perché non avevo mai utilizzato questo pizzo con un filato elastico un filato anche abbastanza tradizionale il tiglio è un misto lana e poliamide acrilico mi pare 80 20 o 70 30 non ricordo più e ho utilizzato un calibro alto qui abbiamo un 7 avrei anche usato un 7 e mezzo è però mi altera proprio l'effetto lui è un filato che manifesta bene l'unione dei vari capi come potete vedere in questa codina vediamo se ci mette a fuoco eccolo lì vedete come si lascia strizzettare e si si lo riconosciamo il punto però non mi manifesta quella bella profondità che invece lui manifesta con dei filati più rigidi diciamo non elastici ecco qui ho utilizzato questa quella sciallina il triangolino sciallina non sarà perché lo disferò che ho utilizzato ecco qua il lama di borgo dei pazzi è un filato è un twist come risultato di torsione di torsione ok vedete sono due capi ben individuabili le fibre attenzione slittano un pochino e quindi se pensate di realizzare dei capi abbastanza fitti e lavorati non lo consiglierei molto diciamo nel tempo dubito che possa avere una bella stabilità mentre lo consiglio vivamente sì per sciaglie sciarpe allora non sciarpe setose morbidose allora lui è setoso al tatto quando lo si accarezza nella matassa la superficie è setosa la consistenza è rustica è rigida non è elastico se voi lo comprimete potete avvertire quasi il famoso pizzichio pizzicore ecco considerate gli scialli non si mettono su pelle nuda lui avrà esteticamente farà la sua meravigliosa figura perché è veramente destinato a tanti tipi di pizzi vorrà fare poi delle campionature con utilizzando il manuale del pizzo shetland ma se si ha occhio anche un qualsiasi manuale di pizzi di pizzi di punti ecco può aiutare nella sperimentazione lui è stabile non chiede anzi guai a tenderlo però questo punto come vedete ai margini mi si arriccia e la chiusura va studiata questa è la chiusura che vedete voi aiuto qua ecco questa è la chiusura vedete si arrotola io ho cambiato il calibro ma non è stato sufficiente ho realizzato due ferri di rovescio in successione rovescio ho concluso la riga a rovescia quindi la riga il motivo e poi ho realizzato un altro giro di rovescio e poi ho fatto la chiusura ma no non mi piace questa consistenza il suo ideale sarebbe con il calibro quasi suo diciamo dal dall'otto che ho utilizzato qua passerei quasi vediamo un po un quattro no ma anche un cinque diciamo è da tentare nel campione si tenta ecco un ai cord un ai cord dovrebbe andar bene o un qualcosa che ci dia comunque un bello spessore un certo spessore un certo corpo perché abbandonato il punto lui torna nella sua natura diciamo è un filato abbastanza sottile e quindi si slabra utilizzando il medesimo calibro necessario per questo risultato e quindi si c'è da studiarlo un po questo è il triangolo che io amo molto qui vabbè c'è un esperimento ecco sarà motivo di di confronto oggi questa prima parte del mio triangolo la vedete a legaccio ecco questi sono i triangoli che crescono grazie a quattro aumenti quindi quattro sulla facciata del dritto e due su quella di rovescio ecco avremo due aumenti centrali sulla facciata dritto due aumenti laterali sempre sulla facciata dritto mentre sulla facciata rovescio avremo solo i due aumenti laterali uno e uno quindi sono quei triangolini che io amo tanto indossare e che crescono più in larghezza che in altezza quindi velocemente riusciamo ad abbracciare le spalle prima di raggiungere una certa profondità nella parte centrale guaio invece che ci impone la costruzione equilatera ecco prima di arrivare ad abbracciare bene le spalle le braccia e ad averne in abbondanza sulla parte anteriore per fare un nodo o poi bloccarlo comunque ecco avremo una bella punta accentuata sul dietro sono affascinanti sì sono pratici insomma ecco ci chiedono parecchio filato ecco e lui è bellissimo come vedete nella sua manifestazione in diagonale crea un triangolo centrale questa parte si parte con poche maglie vedete nella parte centrale poi cresce tramite diagonali e dove ho utilizzato lo stesso calibro vedete qua nella partenza nelle prime diagonali lo stesso calibro di ferro è affascinante nel suo legaccio e mi piace lui lo adoro questa sua nervosità infilato nervoso ma che non fa diventare pazzi ecco non pensate a quei filati che si attorcigliano su loro stessi mentre lavorate assolutamente no è nervoso proprio il cuore nervoso alla sua torsione ma è veramente guardatelo qua è spiomba assolutamente ha una mano interessante sapete che io non sono un appassionata di filati morbidi li apprezzo mi piacciono li destino a determinate costruzioni ma non sono quelli che vado cercando la morbidezza non è la prima qualità che mi deve colpire o che vado a cercare in un filato mi interessa il carattere mi interessa la natura delle fibre assolutamente sì il carattere ecco poi visto il filato cerco seguendo il mio gusto il mio estinto di farlo risaltare al meglio che magari per qualcuno può essere può essere d'accordo con i miei risultati come no è una questione di gusto ecco e quindi lui si manifesta mi ha fatto capire veramente la personalità questo filato però ecco si vede questa differenza è notevole che effetto mi crea mi effetto un effetto bombato sembra quasi che io abbia diminuito il calibro del mio ferro nella realizzazione e invece assolutamente no 8 è stato tricottato il filato qua nel mezzo con l'otto e con l'otto proseguito è un pizzo che tiene un pizzo che mantiene ben aperti i propri punti non chiede tensione non l'ho ancora lavato è lo disferò perché non mi piace l'effetto centrale fate che c'è un errore ma non mi piace l'effetto di separazione tra le due parti non lo so se non mi piace perché è piccolo se magari invece nella grande nel suo doppio diciamo una volta raggiunta il doppio della sua altezza magari l'insieme mi può risultare gradevole o se mi disturba solo questo non lo so no non lo so non lo so non lo so però è un punto che ben si manifesta in questi triangoli scaleni non nel sencia non sto parlando del sencia ecco quelli che crescono senza aumenti centrali e che diventano abbastanza ampi lui sì sicuramente lo potremmo utilizzare anche in uno scialle stondato devo fare un campione devo vedere come come mi cresce sapete che io spesso adotto la tecnica della del adesso ve lo dico del pt panna del pt panna show che lo trovate sempre gratuito c'è in un blog che lo propone con la traduzione in italiano ecco il pt panna inteso come modalità di ferdi accorciati quindi mi scelgo dei bordi realizzo dei bordi belli lunghi in orizzontale e senza interrompere il mio lavoro poi vado a distribuirmi queste diminuzioni dalla parte centrale in poi mi si stonda il capo e realizzo senza tanti sbattimenti uno scialle stondato ecco tutto lì quindi questo pizzo lo possiamo realizzare quindi facciamo una fascia molto alta in orizzontale bella lunghetta ecco perché non vi so dare le proporzioni poi su come quando dopo quanto si ottiene la stondatura io a volte la interrompo e quindi ho dei capi che sono si stondati e poi proseguono dritti e ne ho un paio che mi girano per casa mi hanno dato soddisfazione sono vestibilissimi e poi ne riparleremo ecco questo pizzo si può prestare vero è che poi bisogna fare la considerazione del passaggio del calibro quando lo si interrompe e vabbè sono stimoli sono curiosità veramente mi piace è uno di quelli che mi piace di più perché proprio non è non è noioso c'è quella quel tanto di attenzione che viene richiesta che non ci fa addormentare sul lavoro poi il fatto di sfalsare il motivo anche quello non ci fa addormentare sul lavoro e guardate che bella che bella tridimensionalità che offre lui e poi mi piace questo melange del camelide qua è strano perché si è quasi grava guardate io più lo tocco più mi piace ma io ho toccato dei cashmere sì sì per carità io ho toccato della seta del cashmere del moer del bisone affascinanti morbidi però ecco nei pizzi io cerco anche questo cerco una certa non posso neanche definire la rusticità che bello guardate non farei che campionarlo ieri ho campionato un altro filato che mi gira per casa da camelide adulto e poi ho intuito esserci anche della fibra acrilica immaginavo ecco è molto più ruspante diciamo come filato però vedete non sempre possiamo fare questa considerazione di alterare i calibri dei nostri attrezzi rispetto alla dimensione del filato al di là della torsione perché alteriamo invece che mettere risalto ci creiamo dei dei problemi e ve lo farò vedere in un paio di foto perché poi quella gomitolo mi sa che lo regalo oggi a una mia amica oggi chiacchiere in biblioteca ecco oggi chiacchiere perché porterò giusto lui e porterò anche l'altro campione che vi vado a fotografare vi auguro un buon proseguimento di giornata un buon fine settimana speriamo che sia dolce io ho da fare dei lavori in terrazza nella mia terrazzina devo svasare invasare sistemare lavare pulire le lettere a testamento speriamo che non ci sia più vento anche il vento ha rotto un po' le scatole ultimamente non so da voi non so da voi non so da voi non so da voi Grazie a tutti.